Tempo di fare punti per la Virtus Entella, giunti ormai al giro di boa della stagione. La sfida col Pisa è l'ultima gara del girone d'andata. I bianco celesti vogliono tornare a correre dopo la battuta d'arresto di venerdì scorso con il Chievo Verona. La squadra è in palla, secondo mister Vivarini, che sottolinea i progressi fatti in questi giorni. La settimana è stata una settimana positiva, positiva sotto tanti aspetti perché comunque si è potuto finalmente lavorare. La squadra è cresciuta molto sotto l'aspetto atletico e soprattutto anche sotto l'aspetto tattico. Hanno preso più consapevolezza e ancora di più delle cose da fare in campo e quindi questo mi lascia ben sperare. Con i Toscani non sarà una partita semplice. Squadra lanciata verso i play-off, al momento all'undicesimo posto ma con una partita da recuperare. Arriva da otto risultati utili consecutivi. Chiaramente incontriamo una squadra che ha dei valori assoluti molto alti, soprattutto con le individualità e soprattutto con la volontà che hanno. È una squadra che comunque il Pisa non si dà mai per vinta, che lotta su ogni pallone e quindi saremo veramente stimolati a fare una grande partita. Non ripetere gli errori di Verona e far valere il fattore casa perché Lentella ha fame di punti. Ad aspettare i chiavaresi nelle prossime settimane un trittico che potrebbe essere decisivo per la salvezza, con Cosenza, Reggiana e Regina. Tre squadre che come Lentella sono impantanate in zona play-out. Bisogna cercare di dare il meglio di noi stessi perché adesso cominciamo a entrare nel vivo proprio del campionato, quindi di conseguenza dobbiamo essere bravi.